Falsificava ricette mediche per avere medicinali dalle farmacie ed ieri, venerdì 12 maggio, l'intervento dei carabinieri di Montecchio Maggiore che hanno dato così l'esecuzione ad un decreto di perquisizione locale e personale emesso dall'Agi Iberica a carico di un cittadino italiano residente nella città, cooperatore socio-sanitario, ritenuto responsabile di falsificazione di ricette mediche allo scopo di ottenere la consegna di medicinali da parte delle farmacie. Nello scorso mese di aprile i militari hanno appreso che l'indagato si recava frequentemente presso alcune farmacie della zona per acquisto di un medicinale indicato per il trattamento a breve termine dell'insonnia, farmaco che può essere venduto previa prescrizione medica. Avviati immediatamente gli accertamenti è emerso che l'indagato presentasse alle farmacie delle ricette mediche falsificate. Trovati quindi i primi riscontri relativamente all'ipotesi di reato di falsificazione è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Vicenza una dettagliata informativa. Nel corso delle operazioni i militari avrebbero rinvenuto e sequestrato alcune ricette mediche delle quali dovrà essere verificata l'autenticità. L'uomo, che non avrebbe precedenti, dovrà rispondere dei reati ascritti alla competente autorità giudiziaria america. Grazie per la visione! Grazie per la visione!